Musica Violenza di genere, la presa in carico e rieducazione degli autori e legge. Scontri durante le manifestazioni pro-palestina e manganellate della polizia agli studenti passa alla mozione della maggioranza che stigmatizza l'accaduto a Pisa e Firenze. Approvato a maggioranza il bilancio di esercizio 2021 dell'autorità portuale regionale. Violenza di genere, nuova legge. Il Consiglio regionale approva a larga maggioranza la nuova legge, primo firmatario il consigliere PD Andrea Vannucci, per la presa in carico e rieducazione degli autori di violenza di genere a favore PD, Italia Viva, Fratelli d'Italia, Astenuti, Lega e Movimento 5 Stelle. Approvato a maggioranza anche un ordine del giorno collegato. Tra le novità, nell'articolo 1 si inserisce tra i principi della legge 59 del 2007 il riferimento ai soggetti che assistono alle violenze, riconoscendo essi stessi come vittime e persone offese. Nel testo si implementano poi interventi volti alla presa in carico e alla rieducazione degli autori di violenza di genere, al fine di far cessare i comportamenti violenti e delimitare la recidiva, promuovendo relazioni improntate a parità e rispetto reciproco. La nuova legge prevede dunque che siano istituiti l'elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio e l'elenco dei centri per gli uomini autori di violenza domestica e di genere operanti sul territorio regionale, disponendo che possano iscriversi a tale elenco soltanto i centri in possesso dei requisiti previsti dall'intesa Stato-Regioni del settembre 2022. Quindi da questo punto di vista la convergenza tra il lavoro del Consiglio e il lavoro della Giunta, un gruppo di lavoro con il coinvolgimento anche della Commissione Pari Opportunità e del Comitato Regionale contro la violenza di genere ha portato all'approvazione appunto di una modifica normativa su questi due aspetti e dall'altro sull'ordine del giorno altrettanto importante nel mio modo di vedere laddove si va a determinare, ad avviare un percorso per un'ulteriore revisione complessiva dell'impianto normativo del 2007 e si incentiva la promozione di una serie di percorsi nelle scuole all'insegna del rispetto reciproco e della non violenza. Quindi da questo punto di vista credo che sia stato fatto un buon lavoro, un buon lavoro evidentemente rispetto a un tema che purtroppo, lo vediamo anche nei fatti di cronaca di queste ore, non smette di avere in numeri le caratteristiche di una vera e propria emergenza. Approviamo questa legge a poche ore di distanza da un altro drammatico femminicidio che si è consumato in Toscana. È qualcosa che sconvolge le nostre coscienze e che ci invita a fare qualcosa di concreto e immediato nei confronti di tutti quelli che sono le vittime ma soprattutto anche per chi esercita questa violenza e dovrebbe essere l'obiettivo anche di questa proposta di legge che purtroppo per come è stata impostata, per la mancanza assoluta di finanziamenti ulteriori che appunto non sono previsti e non sembra essere rispondente a quelle che sono le drammatiche esigenze di questo momento storico. Ecco il motivo per cui seppur a malincuore abbiamo dato un voto di astensione anche perché all'interno di uno di questi articoli c'è un riferimento a uno sforzo di ricongiungimento relazionale che a nostro avviso può essere anche pericoloso, va contro anzi quelle che sono le raccomandazioni degli esperti che invitano a non fare quell'ultimo incontro, quell'ultimo appuntamento e di lasciare che le strade di due persone si separino. Io credo che l'aula oggi anche con il voto favorevole di Fratelli d'Italia che forse come dire su certe questioni a volte appare non così scontato. In realtà ci siamo assunti come dire la responsabilità di dare un segnale politico importante. Oggi con la proposta di legge che è stata votata l'iniziativa della maggioranza anche in Toscana a completamento di quella che è la legge che già prevede i centri per la violenza e quindi anche per l'accoglienza delle donne vittime di violenza oggi introduciamo anche delle strutture che possano in qualche modo supportare anche la reeducazione e la presa in carico degli uomini che in qualche modo sono coinvolti in dinamiche di violenza domestica. Io credo che questo intervento debba essere eletto a completamento del quadro regionale ma soprattutto debba essere eletto non solo in un'ottica di prevenzione ma soprattutto debba funzionare anche per la presa in carico ad esempio di persone che nel 90% magari si sono macchiate anche di reati proprio su queste materie quindi sul tema della violenza. Io però ritengo che questo sia un tema che vada affrontato nelle scuole direttamente dalle elementari perché bisogna crescere la cultura del rispetto. Non bisogna arrivare al punto di dover rieducarsi. Dobbiamo proprio educarci affinché questo non debba mai accadere ed è importantissimo che le scuole abbiano un ruolo determinante perché molte persone dicono sì ma io mio figlio lo educo. È vero tante persone educano i propri figli come si deve ma purtroppo chi nasce in una famiglia violenta non ha questa possibilità di essere educato in casa. Quindi è fondamentale a mio avviso è una legge e gli atti che sono stati portati chiaramente sono di rilevanza ma è importante partire dalle scuole e far sì che questi ragazzi crescano nel rispetto degli altri e di se stessi. Ci siamo astenuti, ci eravamo astenuti in commissione valutandone, volendo valutare un pochino più dettagliatamente l'argomento. La legge 57 del 2007 secondo noi è già sufficiente o meglio è migliorabile ma non con questa proposta di legge e con questo ordine del giorno perché sostanzialmente non dice molto. L'ordine del giorno eravamo anche disposti a votarlo però era fin troppo specifico nella narrativa cioè si parla di maschilismo e noi avevamo chiesto di togliere questa parola perché era nella narrativa già un giudizio. C'era già bullismo e era giusto, sessismo e era giusto, rispetto della persona e era giusto ma maschilismo sembrava quasi dare una sentenza in quella che era l'argomentazione per cui ci siamo astenuti. Manganellate agli studenti, passa la mozione della maggioranza. Gli scontri di Pisa e Firenze hanno caratterizzato i lavori del Consiglio regionale che si è concentrato su due mozioni presentate rispettivamente una da Italia Viva, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle l'altra da Lega e Fratelli d'Italia. L'Aula ha approvato la prima con 22 voti favorevoli Italia Viva, PD e Movimento 5 Stelle e 10 contrari Fratelli d'Italia e Lega. Il documento esprime ferma condanna per il grave accaduto e l'auspicio che non si ripetano approcci e pratiche operative per la gestione dell'ordine pubblico come quelle verificatesi in Toscana nei recenti episodi e impegna la Giunta regionale ad attivarsi nei confronti del Governo e del Ministero dell'Interno affinché sia fatta in tempi rapidi chiarezza e vengano spiegate le ragioni della gestione dell'ordine pubblico in occasione delle manifestazioni di Pisa e Firenze dello scorso 23 febbraio quando gruppi di manifestanti, in gran parte minorenni, venivano improvvisamente fatti oggetto di cariche con manganelli in conseguenza delle quali si contavano oltre 10 feriti tra gli studenti. Credo che era doveroso prendere posizione da parte del Consiglio regionale dopo i fatti inquietanti che sono accaduti a Pisa dove abbiamo assistito veramente un po' inorriditi, preoccupati e anche amareggiati nel vedere che dei ragazzi che manifestavano pacificamente, molti di loro minorenni, sono stati addirittura manganellati. È chiaro che noi vogliamo capire di chi è la responsabilità, se c'è stato un eccesso di chi era in piazza o se ci sono invece delle indicazioni che sono state date. Questo lo facciamo anche a tutela di quei rappresentanti delle forze dell'ordine che invece ogni giorno fanno il loro dovere con rigore senza eccessi. È stata evidente purtroppo la rottura di quel patto sociale di fiducia che c'era tra le persone, i cittadini e le forze dell'ordine. Quindi il chiedere chiarezza e più velocemente possibile sarà l'unica cosa che potrà aiutare a ricucire quel dialogo e quel patto di fiducia appunto che in questo momento a Pisa ma anche a Firenze e in tutta la Toscana direi a livello nazionale sta rischiando di venire di mancare. L'unica cosa evidente è che ci sono stati dei ragazzi, dei minorenni che sono stati picchiati e le parole di Mattarella sono la sintesi migliore di quello che dovrebbe essere l'azione, di quello che impropriamente è stato appellato come Stato di diritto da degli europarlamentari e dei parlamentari che invece si sono lanciati in giudizia e a soluzioni semplici. È un atto forte che condanna con fermezza quanto è successo a Pisa e a Firenze, la Toscana non è questo e quindi il diritto di manifestare la libertà si esercita, non deve essere concessa e soprattutto non deve essere repressa con dei manganelli. Un atto violento che è stato in primis condannato dal Presidente della Repubblica e oggi arriva l'atto ufficiale e formale del Consiglio regionale della Toscana che condanna quanto è successo, prende distanza e chiede chiarezza. La Toscana è un'altra cosa, la Toscana è una terra di tolleranza, di libertà, di diritti e come tali ragazzi della nostra regione hanno diritto e dovere di manifestare, di esprimere le proprie idee. Bene che il Consiglio regionale della Toscana abbia assunto questa posizione, dispiace perché magari si poteva creare un atto unitario, invece abbiamo visto un centrodestra arroccarsi su una difesa impossibile, difendere quanto è successo, non compete diciamo alle forze politiche. La seconda mozione, sostenuta da Fratelli d'Italia e Lega e respinta per effetto dei voti di PD, Italia Viva e Movimento 5 Stelle, impegnava la Giunta regionale a riaffermare che fondamento della democrazia è prima di tutto il rispetto delle regole per tutti gli attori della vita pubblica, arriva a dire il diritto a manifestare le proprie idee per tutti all'interno di una cornice di legalità, ad esprimere vicinanza a quegli studenti che manifestavano pacificamente e alle loro famiglie, ma anche alle forze dell'ordine che quotidianamente si impegnano per garantire a ciascuno la possibilità di esprimere la propria opinione e che sono state oggetto anche nella manifestazione del 23 febbraio di insulti, minacce, sputi e provocazioni, in particolar modo da elementi esterni alla comunità studentesca pur presenti nel corteo. Le proposte erano due, la prima di trovare un atto comune, quindi una sintesi, nei prossimi giorni aspettando domani le dichiarazioni del ministro Piantedosi che farà in aula alla Camera per capire anche quali fatti nuovi possono emergere da queste dichiarazioni e c'è stata respinta. La seconda alla fine è stata quella di fare un atto molto semplice dove insieme si faceva, si metteva giù un atto che riprendeva la nota del Quirinale con le parole del presidente Mattarella e questo avrebbe dato anche un senso importante in questa regione dove sono avvenuti questi fatti. Purtroppo il PD ha respinto queste proposte, vuole andare il voto, forte di una maggioranza per mostrare muscoli ma soprattutto per continuare a strumentalizzare questi fatti e come si è sentito in aula a dare già delle sentenze e delle condanne quando in realtà ci sono delle indagini in corso e quindi credo che da un lato la procura, da un lato il ministero e quindi internamente le forze dell'ordine debbano procedere in maniera seria. Noi abbiamo fiducia nelle istituzioni, il PD continua a strumentalizzare. Pisa c'erano tantissime persone che erano in piazza per manifestare pacificamente la propria idea in merito al conflitto tra Israele e Pai Hamas, quindi c'è un conflitto in corso e c'erano tantissime ragazze e tantissime ragazze che erano in piazza a manifestare pacificamente il loro pensiero. A loro va un grandissimo abbraccio e tutta la solidarietà possibile da chi, ripeto, nei movimenti giovanili ci sono cresciuti, Orteni ho fatti tanti ai tempi delle scuole e ai tempi dell'università e quindi un abbraccio enorme. Lo stesso identico abbraccio che va a tutti quei poliziotti che hanno agito in maniera responsabile, rispettosa delle regole e rispettosa di quella divisa che indossano e che rappresenta lo Stato italiano. La differenza sostanziale oggi è che se un poliziotto sbaglia è un poliziotto, quindi c'è qualcuno che avvia un'azione disciplinare che lo può portare a avere una condanna. Se un manifestante sbaglia, purtroppo, apre Facebook e trova leader politici che si spendono per fargli complimenti e fargli l'occhiolino. Quello è sbagliato. Autorità portuale, approvato il bilancio 2021. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato con i 21 voti favorevoli del Partito Democratico e Italia Viva e i 13 contrari di Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle il bilancio di esercizio 2021 dell'autorità portuale regionale. Un ritardo sottolineato durante la presentazione dell'atto dalla Presidente della Commissione Ambiente e Territorio, Lucia De Robertis, del PD. L'utile di esercizio, pari a 641.388 euro come da delibera della giunta regionale, viene destinato per il 20% al fondo di riserva legale e per l'80% da riattribuire alla Regione, che lo riassegnerà come contributo straordinario per investimenti, per far fronte alle maggiori spese derivanti dal maltempo per il dragaggio straordinario del porto di Viareggio. La Quarta Commissione, che ha discusso approfonditamente le criticità della tempistica, ha deciso di presentare un ordine del giorno, approvato dall'Aula all'unanimità, che impegna la Giunta a monitorare costantemente l'attività dell'autorità portuale, a risolvere i problemi relativi alla gestione e a riportare in equilibrio temporale la gestione economico-finanziaria dell'autorità stessa, al fine di garantire una piena e consapevole attività di programmazione e di controllo del Consiglio regionale. Essendo un bilancio 2021, non è in linea con gli interventi programmati che erano previsti anche nel nostro bilancio regionale, non solo dell'autorità. Ieri in aula è venuto fuori il tema del porto di Viareggio, su cui la Regione sta facendo importanti investimenti, penso a 6 milioni sul sabbio d'otto, ma non solo, c'è tutto il mercato ittico che deve partire, su cui c'è anche un finanziamento importante del PNRR e su cui stiamo lavorando. È di tutta evidenza che ci deve essere una collaborazione Frenti, la Regione, la Solità Portuale e il Comune di Viareggio. Stiamo lavorando in questo senso perché il porto di Viareggio, ricordo, è importantissimo non solo da un punto di vista turistico, i cantieri navali, ma c'è un'attività come quella della pesca che vale il 30% dell'attività ittica toscana. Noi abbiamo votato contro al bilancio dell'autorità portuale perché, come avete ricordato, si tratta del consuntivo 2021. Votarlo nel 2024 evidenzia che c'è un problema ormai patologico all'interno della Regione Toscana, per cui c'è una differenza sostanziale fra la programmazione della Regione e la programmazione e l'indirizzo e il controllo che il Consiglio deve fare sui conti e sui numeri degli enti e delle società partecipate. È un atteggiamento che noi stigmatizziamo ormai da tempo. Abbiamo chiesto più volte al Presidente Gianni e abbiamo proposto, e gli altri commissari della Commissione Ambiente l'hanno sottoscritto, quindi anche la maggioranza, di riallineare per quanto possibile l'andamento del bilancio della Regione con quello degli enti e delle società partecipate perché altrimenti il Consiglio regionale non è nelle condizioni naturalmente né di dare degli indirizzi cogenti né tantomeno di verificare come vengono spesi i soldi dei toscani. L'autorità portuale deve essere largamente migliorata e la contrapposizione istituzionale fra Comune di Viareggio e Regione Toscana che ha dato luogo a uno stallo per cui il segretario non viene nominato e nonostante che il contenzioso che era pendente è stato chiuso perché il Comune di Viareggio ha ritirato ricorso, questa situazione crea difficoltà e ieri ho avuto modo di dire che la comunità portuale viareggina, chi lavora, i pescatori che tanti problemi hanno avuto ma tutta la nautica che ha bisogno di competere a livello internazionale aspetta che questi enti dialoghino e portino la possibilità di fare il piano regolatore portuale, l'asse di penetrazione, tutto quello che è necessario e smettano di litigare il suo poltrone. Grazie